Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Qualche sera fa, Alba Parietti ha condiviso sui suoi canali social un episodio che la scossa profondamente. Rientrando a casa di notte, la showgirl si è trovata coinvolta in una situazione che riflette un problema sempre più diffuso a Milano ed intorni. Visibilmente amareggiata e ancora piena di rabbia, Alba ha raccontato di essere stata vittima di un furto. Le ruote della sua auto sono state rubate. Sui social ha espresso tutta la sua frustrazione, affermando che vivere a Milano e nelle aree circostanti è ormai diventato impossibile. Nel suo sfogo ha raccontato che lei, insieme ad altre persone tra Basilio e Milano 3, hanno trovato le proprie auto danneggiate. Tuttavia, secondo Alba, non si può più parlare di sorpresa, dato che episodi del genere sono ormai all'ordine del giorno. Ha menzionato furti di borse, aggressioni senza motivo e persino attacchi contro donne, spesso motivati da futili ragioni. Alba ha sottolineato come la situazione della sicurezza a Milano e nei suoi dintorni sia completamente fuori controllo, tanto da rendere la città invivibile. Non ha parlato solo del suo caso personale, ma di una realtà più ampia e preoccupante, citando episodi di estrema violenza come l'accoltellamento di un giovane a Milano. Vivere qui è diventato come giocare alla roulette russa, ha dichiarato. Con amarezza. Ha aggiunto che se lo Stato non riesce a garantire la sicurezza. La salute e l'istruzione dei suoi cittadini allora ha fallito nel suo compito. Con una punta di tristezza, ha confessato di sentirsi persino in colpa all'idea di diventare nonna, preoccupata per il mondo pericoloso che potrebbe lasciare alle persone a laicare. Alba ha concluso il suo sfogo lanciando un appello alle autorità, invitandole a smettere di investire in progetti che considera inutili e a concentrarsi su ciò che è veramente importante per i cittadini, sicurezza e benessere. Il suo messaggio ha trovato un forte riscontro tra i suoi fan, che le hanno espresso solidarietà, condividendo le sue preoccupazioni e il senso di frustrazione per l'aumento della criminalità. Le parole di Alba Parietti sono stato un vero e proprio grido d'allarme. Un invito a riflettere sull'urgenza di un intervento da parte dello Stato per migliorare la sicurezza e restituire serenità ai cittadini.